Ciao amici, allora, ieri è uscita la prima puntata di Dungeons & DJ, che è un nuovo podcast a tema Dungeons & Dragons, fatto da quelli di Radio DJ, prodotto da One Podcast, e su questo ci torniamo dopo. Ho visto molto gatekeeping sul web, soprattutto su tutte le pagine che lo sponsorizzavano, dicendo ecco, adesso anche la gente inutile, che non capisce niente, non può giocare, non hanno il diritto, perché rovinano il gioco. Allora andiamo a vedere che cosa è successo davvero. Partiamo, prima di tutto, dalle cose che mi sono piaciute, che in verità è quasi tutto il programma, ma che mi sono piaciute, diciamo, della produzione. Allora, la cosa più bella, secondo me, è che è un podcast, quindi non c'è bisogno di vedere il video, non c'è proprio il video. E questo significa che lo si può ascoltare dove si vuole, da qualsiasi app, non hai bisogno di avere YouTube, non hai bisogno di avere Twitch, e diciamo che per un gioco di ruolo, in effetti, la parte visiva, cioè vedere le cose, è abbastanza inutile. Quindi tutta la storia delle camere, quattro camera, dieci camera, io non l'ho mai ben capita, nel senso che devi semplicemente seguire la storia, non hai bisogno di vederla. Quindi questo è assolutamente un punto a favore, perché è uno dei primi che si può ascoltare in giro. La seconda parte che mi è piaciuta molto, vabbè, ovviamente la produzione, che per un podcast è di altissimo livello, e nessuno, credo, nessun altro podcast che fa D&D o video di D&D può avere una produzione del genere, perché ovviamente non può avere quei microfoni, non può avere quegli strumenti di registrazione, i diritti, eccetera, e quindi, beh, ovviamente è per forza di cose superiori a tutti gli altri, e su questo va benissimo. Andiamo ai partecipanti, allora, il master è Francesco Lancia, su cui avevo altissime aspettative, perché l'avevo già visto in giocare con The Gobbies, tra l'altro, e altri comici durante la quarantena su Twitch, a D&D proprio, e so che, però lì appunto giocava, non faceva il master, e so che è un attore di improvvisazione, oltre a essere un comico, e quindi avevo altre aspettative per vedere come le sue capacità improvvisative, di improvvisazione, potevano modificare il gioco, potevano gestire il gioco. Avevo qualche dubbio, invece, sulla gestione, quindi non tanto sulla gestione della storia come improvvisazione, ma sul mantenerla comunque su dei binari sensati, ma su questo ci torniamo dopo. E poi i giocatori, che sono tutti abbastanza sconosciuti, tra cui Rocco Tanica, Matteo Curti, eccetera, e la Cabello, che è assolutamente una giocatrice pazzesca, che secondo me, invece, appunto, non avendo mai giocato, volevo vedere più che altro come mi vengono gestiti, perché ovviamente poi non è colpa loro, se non hanno mai, non si sono mai interessati, non hanno mai fatto nulla, cioè non è che hanno, ovviamente, delle colpe. Come è stata gestita l'avventura? Prima di tutto hanno giocato l'avventura base, e quella dello starter set nuovo, che tra l'altro l'ho giocato, quindi forse questo mi ha aiutato a seguire di più la storia, perché molte altre non riesco a seguirle, sinceramente, di avventure online, nel senso che le guardo, poi dopo tre minuti mi sono già perso che cosa sta succedendo, non fanno proprio per me, anche perché le devo guardare al computer, eccetera, invece questa l'ho seguita molto facilmente, anche perché forse la conoscevo. Parto, ovviamente, da una taverna, ci sarà qualche spoiler, ma non è che ci sono grandi spoiler, la prima puntata dura 40 minuti, e lì appunto si vede come Francesco Lancia decide di gestire il gruppo, che è composto principalmente da Rocco Taringa, che fa cose a caso, e quindi facendo cose a caso cerca di sbarrellare in tutti i modi le cose che il master sta mettendo in atto, e lì la cosa, secondo me, più bella di tutto il podcast è l'introduzione dei pensieri del master, cioè degli overvoice, nel quale Francesco Lancia spiega perché ha fatto una cosa, perché non ne ha fatto un'altra, perché ha deciso di mantenere un'idea che è stata introdotta dai giocatori, perché ha deciso di cancellarla, per mantenere il tutto sui binari, secondo me questa roba è bellissima, prima di tutto, secondo molto reale, perché a differenza forse di altre cose che vedete su internet, che sono, diciamo, il porno dei giochi di ruolo, nel senso, il porno professionale, cioè fatto da gente che lo fa di lavoro con una produzione, una rielaborazione, ma che poi nella vita vera non esiste, nel senso che nessuno gioca a D&D come viene giocato in Critical Role, nella realtà, o comunque, quelli che lo fanno sono probabilmente sette persone nel mondo. Questo di Francesco Lancia è il porno amatoriale, il D&D amatoriale, cioè nella realtà si gioca così, questo è il 99% delle esperienze di D&D del mondo, è inutile dirci, cioè la maggior parte delle persone giocano come giocano loro, quindi fanno casino battute sul Covid, metagame sparato, che non c'entra niente, cose che non c'entrano nulla, il master dice andiamo da una parte, tutti vogliono andare dall'altra, ci dividiamoci, i giocatori che non capiscono, cioè è esattamente quello che succede nella realtà. E secondo me, questo è quello che i giocatori duri e puri non vogliono ammettere, cioè dicono, non è vero, perché D&D è una roba seria, bisogna stare attenti e concentrati, bisogna seguire la storia e interpretare il dolore interno del personaggio. Nella realtà, la maggior parte delle volte è Rutty Scorrage, c'è un film di Bud Spencer. Quindi, ecco, raccontiamoci la giusta. È per questo che l'ho apprezzato molto, devo dire, la cosa che più mi è piaciuta è proprio la plausibilità di quello che fanno i giocatori. Immagino che un giocatore, una persona che non ha mai giocato, che vuole giocare, guarda, critica a Roll, si immagina appunto un film porno professionale, con durate, forme, azioni, movimenti impossibili. Mentre uno che ascolta Critica a Roll, cioè che non ascolta Critica a Roll, che ascolta D&D, si immagina qualcosa di più reale. Poi, entrando invece nello specifico di alcune cose che non mi sono piaciute in verità a quasi nessuna, nel senso che non c'è stato assolutamente nessun problema, forse una gestione di un dado a un certo punto, quando deve dare una testata a un giocatore, però anche quello alla fine non è un grosso problema, perché è anche quello abbastanza reale. Cioè il master improvvisa utilizza una regola che gli viene così in mente al momento, e basta. Poi, per il resto non ho assolutamente iniziato a dire, voglio vedere come va avanti, ma più perché per la gestione della storia dei personaggi, proprio della gestione dei quattro giocatori e del master, che in questo caso è persona reale, ecco. Quello che è la cosa che secondo me è più interessante di tutto. Detto questo io vi consiglio di ascoltarla, farmi sapere se a voi è piaciuto, invece vi ha fatto schifo questo tipo di roba e dovrebbero giocare a D&D solo la gente che, quando aveva 14 anni, aveva i brufoli e giocava a Magic, altrimenti non puoi. Cioè se uno ha fatto altro nella vita non può assolutamente entrare nel mondo di D&D, perché è giusto così, è giusto che rimanga a casa a soffrire. Fatemelo sapere. Io vi saluto, vi ringrazio. Forza Roma a Basso Lazio. Ciao.